Lombardi, bravo a servire Corioni che controlla di testa, in mezzo all'aria, Tomassini, Stajano, Lombardi, Pesca, Papini, Papini, bravo Corioni, Grifoni, Grifoni, cross a rientrare, tiro, non riesce a trovare lo specchio della porta incredibilmente Mencagli quando siamo giunti al venticinquesimo. Lì c'era un fallo di mano, l'abito lascia correre per il vantaggio, Stajano, Stajano, innesca Corioni, Corioni, Tomassini, esce Migni, Belli, Belli allarga per Silla, Silla, ancora Belli, arriva questo cross per Kribek, testa di Kribek, parata, tiro e palla sul fondo, pericolo quando siamo giunti al trentasettesimo. Adesso però c'è lo spazio, Corioni, Corioni, conclusione, l'arbitro indica che non c'è stata deviazione. Corioni, Corioni, scusate Grifoni, calcio d'angolo. Il Trestina, in questo momento ancora un calcio di punizione da tre quarti del Follonica-Gavorrano, c'è Angelo Lombardi che chiama lo schema. E' saltata la connessione, l'abbiamo ripristinata cercando di fare il prima possibile, ci sono state due occasioni abbastanza importanti per il Follonica-Gavorrano. Tiro, rete, fuori gioco. Stefano. Testa di Dierna, tiro. Rete! 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 Follonica-Gavorrano in vantaggio. Va bene, palla buona. Tomassini, Tomassini solo, lo segue e vai, 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 vai in aria, vai! Si fa recuperare e arriva il triplice fischio finale. Non c'è tempo di battere la punizione. Il Follonica batte 1-0 il Trestina, avversario veramente ostico. Vittoria meritata, ma onestamente va reso onore e merito alla squadra Umbra venuta in Maremma a giocarsi la partita con anche alcune occasioni create.